Questa sera siamo per la 26esima volta presenti per questo premio Galeazzo di Tarsia, un premio su un nostro concittadino che è stato barone ma soprattutto poeta e da tanti anni gli stiamo tributando questo premio che nonostante le difficoltà che si incontrano siamo riusciti a portare avanti grazie anche all'impegno, al sacrificio e alla volontà sempre portata avanti da parte della Proloco. Come sappiamo tutti le serate di carattere culturale è sempre difficile portarle avanti perché si preferisce sempre la serata più ludica, più portata al divertimento però come amministrazione di oggi e parlando anche di quelle del passato siamo orgogliosi che ancora questo premio riesca a vivere nonostante tutte queste difficoltà. Grazie a tutti.